Ciao a tutti, oggi prepareremo i brownies alle amarene sciroppate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 75 minuti circa. Gli ingredienti sono per la base zucchero, cioccolato fondente, burro, uova, cacao amaro, farina di tipo zero, sale e vanillina. Per la crema, formaggio spalmabile, zucchero semolato, amido di mais, uovo, aroma di vaniglia e amarene sciroppate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il formaggio spalmabile che noi abbiamo fatto con il bimbi, l'uovo, l'amido di mais e l'aroma di vaniglia. e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 4. la nostra crema al formaggio è pronta, mettiamola da parte. senza lavare il boccale mettere all'interno del bimbi il cioccolato li facciamo dritare per 10 secondi a velocità 8. riuniamo sul fondo del boccale. aggiungiamo il burro che noi abbiamo fatto sempre con i bimbi e facciamo sciogliere per 5 minuti 60 gradi, velocità 3. adesso aggiungiamo la farina, lo zucchero, le uova, il cacao, il pizzico di sale e la vanillina e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 5 trasferiamo l'impasto in una teglia ben imburrata all'impasto adesso aggiungeremo la crema al formaggio a cucchiaiate adesso aggiungeremo le nostre amarene con lo sciroppo adesso con un bastoncino andiamo a variegare il tutto cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa i brownies sono pronti lasciamoli raffreddare prima di porzionarli brownies alle amarene sciroppate grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti